Ius Soli, il governo non ha la maggioranza al Senato, non ha il consenso nel Paese perché da tutti i sondaggi 70 o 80% degli italiani dice di no e cosa vuol fare i gentiloni? Vuole imporre ideologicamente come vilaville della sinistra questa norma al Senato nei prossimi giorni, faccia pure, invece che occuparsi dei giovani, delle pensioni, della povertà, della crescita economica, vuole semplicemente imporre una norma che l'Italia non vuole, la cittadinanza facile, l'Italia non vuole dati i tempi, la vuole imporre al Senato, ripeto, come collante, vinavil della sinistra per dire qualcosa di sinistra, indecente, inaccettabile, in ogni caso facciano pure, inizierà la nostra campagna elettorale dal dibattito al Senato e se mai riuscissero a farlo passare con la fiducia immediatamente chiederemo il referendum abrogativo e cominceremo a raccogliere le firme in tutta Italia, così spianando la strada al centro-destra e alla vittoria del centro-destra. Posso fare una domanda? Ha sentito, stamattina Di Maio ha chiesto l'intervento dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione per le elezioni in Sicilia per verificare sulle operazioni di voto. Di Maio con quella bocca può dire ciò che vuole. Io avevo chiesto che intervenisse l'OSCE sul referendum, l'OSCE se ne è ben guardata dall'intervenire, chiedere lecito, rispondere cortesia e Di Maio con quella bocca può dire ciò che vuole.